Gli artisti manziali che stanno per iniziare, che hanno detto che vi parla e che vi auguro un po' di proseguimento di giornata con il grande galà della Fusica Bar, signori. First of all, we have to welcome all the master fighters that will attend the show in a few seconds here. Vogliamo ovviamente augurare tutto il successo ai maestri e agli artisti manziali che si tireranno una coppa qua. Questo ovviamente è il Festival dell'Oriente, quindi partiamo proprio con le discipline che dall'Oriente sono arrivati qui in Europa e hanno avuto il grande successo che tutti voi conoscete, che tutti noi conosciamo, visto il grande numero di scuole, palestre, federazioni e atleti che sono giunti qui a Cana. Allora, so, let's start with Kung Fu, and we talk about a very important master here in Italy, but known internationally, and, what were you?